Il prossimo 15 di maggio partirà la stagione baleare, così prevedono le norme emanate dal governo. Abbiamo deciso di iniziare un viaggio nello sconforto delle marine leccesi a pochi giorni dalla ripresa dell'attività sulla riviera Salentina. Lo scenario è lo stesso, nulla è cambiato, nulla si è sbloccato. A questo si è aggiunto anche l'incuria su tutto il litorale, i resti lasciati dal mare, la sporcizia, erbe alte nei parchi, è stato di abbandono generale, con strutture come l'ex windsurf a San Cataldo di cui si parla da anni ma nulla si muove. Ecco le immagini che abbiamo registrato, qualcuno prova a fare un bagno, qualcuno invece sceglie di vivere il mare, quello spazio dove finalmente si può tornare a stare in totale libertà, lontano dallo scempio e dalla dimenticanza delle amministrazioni.